Non ce l'ha fatta Pierluigi Campana, l'automobilista 51enne, rimasto coinvolto in un drammatico incidente della strada ieri sera sulla consolare per San Marino. L'uomo è morto al buffalino di Cesena dove era stato trasportato in condizioni disperate. Aveva riportato lesioni gravissime a nulla, sono valsi gli sforzi dei medici per salvarlo. L'incidente si era verificato poco prima delle 23 sulla consolare per San Marino, poco dopo l'incrocio con via Rovereta in direzione di Rimini. Dalle prime informazioni pare che un Audi A6 Station Wagon con targa del Titano stesse procedendo a velocità molto sostenuti in direzione mare quando il guidatore si è trovato davanti, una Fiat 600 guidata dal 51enne riminese e secondo una prima ricostruzione l'avrebbe tamponata violentemente. L'utilitaria per la forza dell'impatto ha sbandato sulla destra dopo aver impattato contro la spalla in cemento armato di un ponticello che scavalca al fosso si è girata per poi terminare la sua folle corsa, andata a sbattere con la parte posteriore contro un albero. Anche l'Audi dopo il tamponamento ha proseguito la marcia finendo nel fossato. Entrambi i guidatori rimasti incastrati, tra le lamiere sono stati soccorsi da due squadre di vigile del fuoco con il personale del 115 che dopo aver estratto i feriti dagli abitacoli le aveva affidate alle cure dei sanitari. Del 118 arrivati sulla consolare con due ambulanze, due automedicalizzate. Il più grave è apparsi immediatamente il 51enne che dopo essere stato stabilizzato sul posto era stato trasportato al bufalino i ceseni in condizioni gravissime. Ferite di media gravità invece per il guidatore dell'Audi trasportato all'infermi dei Rimini sul posto una battuglia della polizia stradale che per effettuare i rilievi di rito e le operazioni di soccorso ha chiuso temporaneamente una delle due carregiate della consolare.